Eeeh la madonna! Eeeh il sole! Eeeh maggio finalmente! Che giorno è oggi? Il 16? No di te oggi è 17. Comunque eeeh... Eeeh ma tu sei avanti col fuso. Eeeh col fuso. Eeeh comunque mettendoci il canale di Santibonese oggi siamo qui per la previsione del mio pay per view preferito ovvero stomping around no ovvero money in the bank. Allora il mio pay per view preferito è eric si dite come però come questo è un altro discorso. Vi devo ripartire subito dato che la Dabby non ci ha capito un cazzo degli ultimi suoi errori e mi ha messo ben 11 match in questa match card di cui 2-2 vanno come minimo 20 minuti avanti con kick off. Daniel Bryan e Rowan contro Judas. Adesso questo è match in kick off però come vedete nella foto non sembra essere un match titolato. Sennò scriverò no? SmackDown Tag Team Champion. E anche per dire se è andato su wikipedia. Eeeh o sul sito www non c'è scritto eeeh... SmackDown Tag Team Champion in Geoparty o non lo so in qualcosa. Comunque è un match, boh, sarebbe un match tanto così. Comunque sicuramente vinceranno i... Ta 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 ta. Eeeh i nuovi campioni di SmackDown ovvero Rowan e eeeh... Lembrando che alla fine questo è un rematch di quello che abbiamo visto SmackDown nel match valido per i titoli vacanti di SmackDown Tag Team Champion. Ricci vacanti dai... Yardy Boys. Sicuramente vincevano i Usos e... Sì scusate... Daniel Bryan e Rowan. Un bel match comunque. Eeeh secondo me? Secondo me Daniel Bryan e Rowan. Perfetto. Ah avanti tutte. Il primo match della serata è Tony Nese contro Harry Dayvari. Ce l'abbiamo fatta. Ma il titolo di Crevo Joy non è... Ma aspetta, aspetta. Incrocia le dita. Perché sai che la WWE all'ultimo momento potrebbe... Però non lo so perché questa è veramente una fai da... Cioè non è una fai da Kofi Kingston a WrestleMania. Però comunque c'è una costruita, first contender, qualche battibile... Qua è lì comunque il kick off di Money Bank dura solo un'ora. Quindi c'è tanto tempo di fare questo match qua. E penso che gli Usos o al contrario di Bryan e Rowan... Non siano così facili da battere in sei minuti. Quindi questo al momento non è le kick off. Sono contentissimo. Perché comunque... In che uso vede le kick off? No. E quando se non meritavano... C'erano match nella match card che non meritavano di essere... Nella main card scusate ma meritavano essere le kick off. E vice versa. E quindi... Fai da abbastanza costruita. Con l'ultima puntata che abbiamo visto a Daivari che ha attaccato Ligueo e soprattutto ha attaccato Tony Nese. Match che sarà secondo me inferiore come spettacolarità ai Buddy Murphy contro Ali. Ai Buddy Murphy contro Tony Nese. Però secondo me sarà un bel match. Forse un po' più tecnico del solito. Ehm... Anche perché dall'altra parte abbiamo... Non abbiamo un super caruso e dall'altra parte intendo la riga Daivari. Cioè abbiamo uno che è più terra terra. La sua final era Fabric Splash. Una delle sue final però comunque un po' più... Sta più sul pavimento diciamo ecco. E comunque secondo me vinceva Tony Nese perché non è assolutamente il momento di fargli perdere il titolo. Ma a 2 of Alive servono assolutamente di carattura importante. Perché ha perso Senegal Alexander. Ha perso Buddy Murphy. Ha perso Ali. Sono stati caratteristiche importanti e adesso ha bisogno di caratteristiche proprio importanti. Ehm... Non so... Non so su chi ci possono... Ehm... Rifugiare. Però serve qualcosa. Perché adesso che Tony Nese... Che... Tony Nese... Il 90% batterà Aria Daivari. Chi andrà per il titolo... Crusoe? Domanda? Scrivetelo nei commenti. Secondo me? Secondo me Tony Nese. Comunque secondo me sarà un bel match. Beh... Un match dei Crusoe. Appunto. Andiamo avanti. Secondo match della serata. Siamo raggiù che difende contro l'Emistilio. E vabbè dai. Ehm... Allora... Eh... Eh... Allora... Ehm... Qua abbiamo... Da una parte il campione degli Stati Uniti. Un altro attore che si sa in uno contro uno contro l'Emistilio non avrebbe problemi di nessun tipo. Esatto. Hai il tablo di lui in tutto. Dall'altra parte però abbiamo l'Emistilio che potrebbe... Avere l'aiuto di suo figlio. E abbiamo visto nella puntata di E.R.O. Quando l'Emistilio ha battuto Sammo Joe. Che alla fine dopo che l'ha battuto è arrivato suo figlio. L'ha preso in braccio e così. Quindi... Io dico che vince Sammo Joe. Solo perché voglio vedere Sammo Joe. Che difende il titolo degli Stati Uniti. E lo perde. Contro Bruce Truman. Ma attenzione. Puntini di sospensione. Ne riparleremo lunedì con la recensione. Punto. Non ho altro da dire. È un rematch. Non è stata costruita la farda. La farda è stata costruita sul figlio di l'Emistilio. Per quello che dico. Non so se Sammo Joe vince. Oppure se... Allora diciamo così. Se Sammo Joe vince o perde. Oppure se l'Emistilio vince o perde. Sarà per il figlio. Per colpa o grazie del figlio. Pronto. Io invece ribadisco Sammo Joe. Spero. Perché vorrei vedere Sammo Joe. Contro Bruce Truman. O meglio. Vorrei vedere Bruce Truman con il titolo. Giusto per vedere come sarà Carlo. No. Perché è una cosa un po' intelligente. Che potrebbe fare la WWE. Ma darebbe si direbbe Uzoit. Ecco sì. Sarebbe una cosa molto intelligente. Dato che darebbe molto... Esatto. Rilevanza. Rilevanza. No. Terzo match. Romain Reigns contro Elias. Allora. Questo è un poco un match dell'anno scorso. Anche l'anno scorso avevamo un match singolo di Romain Reigns. I'm on in the bank. E' stato un match proprio di quelli top. Qua alla fine di questo match è nato... Galazza è un altro match. Se vogliamo. Questo match è nato grazie a quel match che diremo dopo. Che lo dico già. E' Demis contro Shane McMahon. Per il tag team. L'alleanza che c'è stata Shane McMahon e Elias. Eh... Non è un match che mi interessa. Sicuramente non è un match che tutti attendono in più. E' un match che potrebbe essere bello. Comunque perchè abbiamo contro due dottori bravi a lottare. In questa domanda. Eh... La fight è... Ripeto. La fight è stata costruita. Mentre costruivano Demis e Shane McMahon. Cioè gli spot che hanno... Alla fine l'unico spot singolo di questa fight è... Quando Romain Reigns è arrivato a SmackDown. E' stato shake up a SmackDown. Draftato a SmackDown. Mentre c'è Elias che faceva la sua... Mentre Elias era stato... Draftato a SmackDown. E' stato per fare il suo concerto. E' stato interrotto. E Reigns ha picchiato Elias. Eh... Però tutti gli altri segmenti di questa fight. Eh... Per la costruzione erano insieme a Demis. Alla fight tra Demis e Shane McMahon. Quindi. Secondo me. Questo match vincerà Roma Reigns. Mi dispiace per Elias. Vincerà Roma Reigns. E Shane McMahon e Demis non interverranno in questo match qua. Ma. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo appunto. Per gli interventi. Comunque secondo me vincerà per appunto Roma Reigns. E mi dispiace per Elias. Che si verrà... Verrà beffato ulteriormente. Quando avrà un put up su di lui. Mi chiameranno. Eh... Quanto vorrei dire Elias. Però dico anch'io Roma Reigns. Demis. Andiamo avanti. E il match che già sappiamo. Demis contro Shane McMahon. Però in uno steel cage. Perchè. Allora. Mi piace il fatto che sia uno steel cage match. Perchè. Perchè. Nella resta armenia. Sono andati in tutto lo stadio. Invece qua. Sono inchiusi in una steel cage match. Ehm. Bella sta cosa. Ehm. Cioè. Dico. Non è che è bella. Allora il match è figo. Un attimo. Cioè. Anzi. Anzi. È molto limitante. Soprattutto per Shane McMahon. Ehm. Nel senso. Lui che fa voli. Salti. Ehm. Il costo lo può fare. Ehm. Però comunque. I suoi voli. Per dire. Mi immagino. Io mi aspetto già un volo di Shane McMahon. Dalla cima della gabbia. Ehm. Sì. Perché. Figurati. Uno che si butta da steel cage. Dalla NSL. Dice. Se hai metto. E vuoi che non faccia un volo da. Dalla steel cage. Dalla steel cage. Ehm. Comunque. Io mi aspetto. Un bel match. Molto intenso. Qui. Invece. Ci sarà l'intromissione di Elias. In senso. Nel senso. Shane McMahon non aiuta Elias. Ma Elias aiuta Shane McMahon. C'ho fatta di sta frase. Ehm. Sì. Allora. Questo match è un match molto incerto. Perché. Far perdere due match. Due match. A Demit's di fila. È. Pesante per Demit's. Soprattutto se lo devi pushare a face. Però. Lo so. È difficile. Che con tutti gli aiuti. Che ha avuto Shane McMahon. In questo match. Non. In questa fila. In questi mesi. Non vinca. Eh. Io sono molto incerto. La regina. Dica lei. Un suo pronostico. Un po' come la vedi così. Io intanto ci penso. Io dico. Shane McMahon. Allora. Facciamo così. Io dico Demit's. Ma è più. È più una speranza. Che un pronostico. Facciamo così. Oppure potrebbe finire. Siamo pari. È un. Lei dice. Un terzo match. Alla stomping ground. Sì. O a. Super showdown. Sì. Ci può stare. Io dico. Eh. Pari. Però pari. Potrebbe venire fuori. Anche con la vittoria di Demit's. Allora. Io dico Demit's. Ripeto. È più una speranza. Che qualcuno lo aiuti. E qualcuno di esterno lo aiuti. Eh. Che è un vero pronostico. Io dico Demit's va. Comunque. Siccome era fuori. Potrebbe venire fuori. Interessante. Potrebbe venire fuori. Uno staircase diverso da tutti gli altri. Che non avanti. Becky Lynch. Che difende contro Lacey Evans. Che titolo? Il titolo di SmackDown. No. Di loro. Esatto. Allora. Allora. Becky Chubot. Come dice lei. I'm a champion. Allora. Ehm. Becky Chubot. Due titoli. Due mesi titolati a proper view. Come ha fatto Senterone sul 2015. A Night of Champions. Ehm. Allora. Ehm. Io. Vorrei. Vedere Lacey Evans. Campionessa. Però è troppo. Cioè. Secondo me questi pronostici. Per questi due mesi sono molto veloci. Ve li spiego. In termini di. Marketing. Per Lacey Evans è troppo presto. E. Ehm. Mi è piaciuto come è stato fatto tramite la fight. Con Lacey Evans. Che l'attaccava. Mentre faceva le sfilate. La. La zuffata che hanno avuto. Cioè. Secondo me è molto più interessante. Questo match qua. Che è un first time ever. Tra Lacey Evans e Becky Lynch. Che il. Il. Milionesimo. Time. Di. Di Becky Lynch contro Charlotte. Che. Da quando è che lo fanno? Da settembre. Ehm. Siccome vincerà Becky Lynch. Perché è tra più presto. E ve lo dico già. Nel prossimo match. Ehm. Annunciavolo già. Becky Lynch contro Charlotte. Per il titolo di. Eh. Roo. No. Di SmackDown. Ehm. Vincerà Becky Lynch. Perché. Guarda. Ve lo spiego come cosa. Dio. Si vede. Ecco. Non è mia. È un regalo. Figuratevi. Mi compagno metto di Becky Lynch. Ehm. Partito tutto il. Il merchandise. E' partito tutta. La. Tipo Coffee Mania. No. Becky. Di Two Belts. Quindi. Vedo dura che. Almeno per un altro pod. Esatto. Vedo dura che. Subito dopo un mese. Interrompono già. Tutta questa. Questa. Acclamazione. E soprattutto questo. Ehm. Boom di Mercedes. Perché ha fatto un boom. Pazzesco. Quella maglietta lì. Cioè. Una delle più vendute. Seconda solo alla maglietta di Coffee Kingston. Ehm. Mi sembra. Ehm. Quindi. Siccome vinceva. Becky Lynch. Tutti e due i match. Sia Charlotte. Che lei si vende. Quello di Lacey Evans. Per il titolo di Raw. Perché tra poco presto. Per lacey Evans. E quello di Becky. E di Charlotte. Perché hanno già fatto. 1560 volte. Becky Lynch contro Charlotte. Invece due. Perché Charlotte vinceva questo mese qua. E soprattutto. Perché. Adesso Becky Lynch. È in pieno. Hype. E non puoi fermarla. Dato che adesso. Cioè. Non è. Non puoi. È da idioti. Di fermarla. O che la WWE. Che quando ci parla di cose idiote. È in prima posizione. Però. Hai Becky Too Bad. Una maglietta che vende un casino. Perché devi. Già interrompere. Cioè. Perché dovrai comprare la maglietta Becky Too Bad. Se lei non è più. Esatto. Quindi. Doppia Becky Lynch. Che vince. Almeno. Per questo proprio view. Ci arriva. Dopo. Sono dark conti. Dark contissimo. Oddio. Non ho più un naso. Dark contissimo. Il prossimo match. È. Natalia. Contro. Danna Drew. Contro. Naomi. Contro. Reel Service. Contro. Baby. Contro. Mandy Rose. Contro. Amber Moore. Contro. Femminile. Morning In The Bank Love Match. Femminile. No no no. No no no. No no no. No no no. Questa è la mia reazione con so contento. Allora. Come nella nella trasmission di noi. Che ti ho... Di noi o di IT. DI IT. Che ti ho avuto in alto. Comunque. Allora. Facciamo come facciamo sempre. Costruzione non c'è. Morning In The Bank Love Match. Allora. Partiamo subito. Mi dica in ordine. Natalia. No. non vince perché perché lo sappiamo non è il momento di Natalia quindi via no non è il suo momento non lo sa mai Naomi no allora Ni perché urlo Ni dico no ma attenzione io dico Ni secondo me non lo vince però mai lì la mai Alexa Bli no l'ha già vinto l'anno scorso Bili Ni anche lei attenzione con Becky Lynch Charlotte McGregis Stavani attenzione dico Ni Tenente al Si mentre ma vedi alla fragola o al caffè mentre Naomi era Ni Tenente al No qua Ni Tenente al Si scusate è da anni che voglio fare la sua ok avanti Mandy Rose Si Ember Moon Ni Tenente al Si no Ni Tenente al No o Ni e Basta che almeno era vinto l'anno scorso no l'ha vinto due anni fa se l'ha vinto l'anno scorso si vabbè ma che almeno l'anno scorso ah beh qua l'anno l'anno vinto due anni fa quindi non è il suo me esatto eh si io dico personalmente stavo per cominciare un discorso basta cioè per me chiudo il discorso per me questo Marilyn lo vince Mandy Rose punto io ti dico Bailey attenzione no no ma sono assolutamente d'accordo sarebbe una luttatrice inutile per mandarla contro no più che altro fra vincere se Bailey vince serve la prima women's face a vincere Bonita perché la vita Carmella e Alex Bischio quando la vita mi hanno i quindi comunque io dico Mandy Rose solo perché potrebbe esserci interessante la faida con lo split con Sony Devil le robe interessanti io sono più figo di te tu sei lesbico queste cose qua interessanti comunque io dico Mandy Rose lei dice io dico bene perfetto io sono contentissimo che Big Big O non sia più Big O e abbia tornato contro Kevin Rose poteva e abbia tornato contro Kofi Kingston poteva far durare Big O altre due settimane assolutamente sì però va bene così tanto chi ci credeva nessuno quindi sono contento che sono contento di questo match poteva venire fuori un match molto interessante sono due trattori molto abili su ring sto notando che Kofi Kingston ha migliorato sai con una cagata a masco ma no ha migliorato il tribolo in paradiso lo fa molto meglio adesso prima lo faceva con il ginocchio quasi adesso l'ha molto migliorato è un match molto interessante vedremo sicuramente XRV a board ring o forse no non si sa perché comunque Kofi Kingston sembra che si sta un po' staccando oppure si sta un po' staccando sta un po' lasciando XRV nel backstage perché comunque ogni volta XRV esce si piglia una powerbomb sull'epon comunque ripeto Big E non arriva tra vent'anni il mese prossimo torna già quindi non è che New Day si fanno la rimpatriata tra vent'anni il mese prossimo già tornano insieme nel senso Split New Day Triple Tareta Summer per il titolo WB tendo questo io quindi per questo motivo mi dispiace un sacchissimo perché Kevin Owens è uno che si meriterebbe titoli su titoli su titoli meriterebbe tutto perché è uno dei migliori rotatori in W punto e aveva il microfono tipo ciampa però è sempre l'uomo giusto al momento sbagliato quindi secondo me vinceremo finito in un bel match attenzione anch'io vorrei io comunque non è che voglio vorrei vedere in futuro Kevin Owens campione però per ora preferirei che restasse compi Kingston e comunque ripeto c'è ancora un finbano campione interpotentale ok rigore contro finbano non fa schifo comunque andiamo avanti Seth Rollins che difende contro AJ Styles per titolo Universal allora wow dream match è uno dei miei dream match quando Seth Rollins scusate quando AJ Styles e vate in WB penso sia il dream match anche di mia nonna allora fight ha costruito bene nel senso che non ci sono quasi toccati non è che hanno fatto tipo tag team match uno in un tag team uno in un altro e si scontravano e facevano dei piccoli spot hanno fatto ci sono picchiati solo nella firma del contratto che è stata una bella firma del contratto mi aspetto un bel match beh direi che è licito aspettarsi un bel match tra 7 euro ogni 6 G Slice secondo me vince Seth Rollins ma non finisce qui ci sarà un rematch a stomping ground e o a cioè secondo me fanno tre match interessante tipo G Style contro Nakamura Nakamura non ha mai battuto G Style però hanno fatto tre match di fila secondo me potrebbe anche finire in squalifica questo match qua e c'è un abisco incredibile perché si sa che la WB per mandare avanti una faida deve fare match qualifica non come NXT che è come 25 c'è Adam Cole contro Johnny Gargano ma non mi sembra che il primo Adam Cole contro Johnny Gargano si è finito in squalifica però NXT è un'altra cosa è molto più bello comunque se mai vince 7 Rollins ma non è sicuro potrebbe anche finire in squalifica però spero 7 Rollins vince 7 Rollins anche perché G Style ha perso il titolo due giorni fa magari fai non fai il titolo per un po' 7 Rollins io dico anche io 7 Rollins trovo il resto appena arrivato G Style andiamo all'ultimo match che ovviamente è Semi Zane contro Ricochet contro Drew McIntyre contro Barry Corby contro Ali contro Finballo contro Andrade contro Andy Horton devo dire Money in the Bank ladder match punto allora wow il fatto che ci sia Semi Zane che è subentrato al posto di Barone insomma perché andate a vedere l'ultima puntata di Evo non so certo io che vi farò tutto la rewind delle puntate che andate a vedere soprattutto perché questo potrebbe essere uno dei Money in the Bank più belli di sempre basta vedere chi c'è nel Money in the Bank di un match tutti i lottatori molto bravi esatto e soprattutto tutti i lottatori molto da Money in the Bank ladder match cioè può vincerlo per me chiunque e sarei contento solo una persona non potrebbe vincerla che ahimè è uno dei miei preferiti che abbiamo come perché l'ha vinto due anni fa sui motivi di armella comunque allora come prima Semi Zane ni tendente al no perché secondo me arriva Brostomo a un certo punto e picchia a Semi Zane perché gli ha rubato lo spot ah comunque questo potrebbe essere uno dei Money in the Bank più belli di sempre semplicemente perché non c'è per un storm perché ogni volta che c'è per un storm in un match più persone il match è tutto suo vedi il miso gember Royal Rumble Battle Royale Money in the Bank l'anno scorso quindi Semi Zane ni tendente al no poi Fimbalder direi no poi chi c'è dopo Ricochet Ricochet no perché è stupido no l'ultima puntata di SmackDown ha salito sulla scala ha preso la valigetta e quindi automaticamente chi prende la valigetta e la puntata di SmackDown prima di Money in the Bank non vince quindi Ricochet è escluso Ricochet serve solo per fare i homie g moment mi dispense molto per questo però va beh Drew McIntyre Drew McIntyre sì è uno dei papabili poi no Ali no stesso motivo di Ricochet serve solo per fare i homie g moment beh Fimbalder al titolo Fimbalder al titolo quindi no però è stato intelligente mettere Fimbalder nel questo qua perché sennò c'era un ulteriore match per il titolo in tempo di Nettale che non frega un cazzo a nessuno vedi siamo giocontro il misterio Sienama sì io mi rifiuto di dire Andrade Andrade sì è uno dei papabili e Randy Orton Randy Orton no Randy Orton l'ha già vinto a a un a un 39 anni è un match dove c'è un sacco guardate il match è un match dove ci sono un sacco di giovani da Randy Orton sapevo proprio demolire la tabina e proprio tagliare le gambe a NXT a NXT UK tu fai dai ma dare il titolo dare il momento di Randy Orton sarebbe rovinarla non perché a Randy Orton non sarebbe lottare ma perché Ali Andrade Corby hai un sacco di giovani cazzo lo tagliare più meglio di tutti quindi mi fermo qua dicendo che secondo me questo momento di me lo vince o The McIntyre o Andrade se dovessi prenderne uno vi direi Andrade perché arriva sta Roma che picchia tutti picchia Corby The McIntyre e Sami Zayn di Corby The McIntyre perché hanno aiutato Sami Zayn a vincere il match il Foscan Anywhere e Andrade si ritrova lì e vince quindi io dico Andrade io dico Drew McIntyre ecco se vince The McIntyre sono 100% contento se vince Andrade sono 100% contento questi sono i nostri prognostici per Money in the Bank scrivete nei commenti cosa ne pensate e secondo voi chi vincerà il Money in the Bank la rar match maschile e femminile e continuano a posticipare il Money in the Bank tag team sarebbe una cosa intelligente proprio perché non la posticipavano qua chi vince e quali mai scatenete di più poi c'è il video che vi vedete dovete vi inviare ci sarebbe molto piacere ci vediamo nel prossimo contatto con la regia e il cambiamento climatico 3 2 1 di litta non la posticipavano 4 3 2 2 1 lo è un'esercizio le vede in un'esercizio il